Dunque amici, rieccoci qui sul canale a portare qualcosa di sperimentale immagino, Enotria, The Last Song. Di che si tratta? Allora, non voglio fare il sabbaco della situa, però anche se lo suggerisce effettivamente il nome che potrebbe riguardare un vino, lo scopriremo. Magari hai ninjaato il tema della sabbaco nomaica della situazione. Sabacano. Sabacana maica. Comunque non voglio essere il sabbaco della situazione, ma è un Souls-like prodotto in Italia. Da uno studio italiano. Veramente? Sì. Da Peppino. Non lo so chi l'ha prodotto. Peppino. Giovanni, l'ha prodotto Giovanni. La cosa che più mi sta però sul cazzo in realtà è che non è italiano il gioco. Ma che vuol dire? Scusa. Cioè io vado qua, c'è solo English, non c'è nient'altro. Ma non ha senso questa cosa. Quindi va bene, comunque è Notria della Sassonga. Vabbè vai. Proviamolo perché non ho visto nulla. No, neanch'io. So solo che è un Souls italiano che doveva uscire qualche tempo fa ed è stato rinviato per discorsi di... cazzate varie e incesti varie con le uscite. Lagga? No? Un po' sì, forse. Abbassiamo un po' il volume che... Svegliati tizio senza maschera. Che credo che... Un po' forte se... The stage is set. Così. Attenzione. Così. Vabbè, è un po' Souls. Sì, ma è una grafica del 1952. Allora, è tutta ultra, ovviamente. Vabbè. E siamo un manichino di quelli che usi per disegnare. Non so se l'hai notato. Quelli che vai dai Tiger e li punti sempre con il braccio alzato. Ah, l'ho capito che dici. Sì, lasciamo stare quelli là. Ah, lock on target. Perfetto. Non hanno testa. Heavy. Ok, perfetto. Non hanno una testa. La ghicchia un pochettino. Per una demo, insomma. Oh cazzo. È una demo, scusa. Questa è una demo, non è il gioco. Certo, il gioco ancora non è uscito. Particles ci sono. Particles sì. No, la grafica è piatta. Non ha ombre, non ha colori, non ha sfumature. È piatto. Per ora. No, è una grafica quella, è ombre. Dove sono le ombre? No, non facciamo un processo alle intenzioni. Aia, non facciamo un processo alle intenzioni. Perché siamo in un ambiente, diciamo, abbastanza chiuso. Non abbiamo level design. Ma perché si è fatto colpire? Eh no, perché mi sta dicendo il tutorial all'alto. LMB. Perry. Uh. Is the guinini. Capisci. Ah, ok. Light attack fa il repost. Ok. Difittalo, difittalo, che ti ammazza. Ah, ma tu non hai idea della... Aspetta, mo ti spiego. Deve essere... No, no. Aspetta, aspetta. Scusami un attimo, amico. Scusami un attimo. Tu premi il tasto, no? E lui fa il Perry. Guarda. Un quarto d'ora ci mette. Premuto. Ah, ho capito. E lui nel frattempo è venuto piano piano. Sì, sì. Scusami, scusa, scusa. Il discorso è quello, il discorso è che... Oh, guarda, aspetta, guarda. Ti faccio... No, vabbè, però gioco. Aspetta. Can awaken the canovaccio's grip. Che cazzo vuol dire? Che vuol dire? Premo. Ok, vabbè, ci mette un... Ma porco Giuda, che spadone. Ma che è? Cloud. In un primo momento ho detto che cazzo è Cloud. Ah, come che cazzo è Cloud? Non l'avevo collegato su... Bravissimo. Praticamente lo sto facendo sbilanciare, vedi? Lì adesso è sbilanciato. Io mi avvicino. Non è Super Mario. Metti che è Super Mario. No, non è Super Mario. Vabbè, scusa, non volevo, ovviamente. Non volei... No, ho sgridato, non avrei mai... Comunque... Sai che mi dà le vibes di Lies of P? Il lag c'è. Che è quello molto bene per il gioco. Vabbè, ma in realtà... Era un bel gioco. È Lies of P che dà le vibes da gioco italiano, ma perché appunto tutto... Sì, ma quello è bello comunque. È tutto ambientato, insomma, nell'universo di Pinocchio. In Italia. Non lo so se è in Italia, però in l'universo di Pinocchio... Sì, perché Pinocchio è stato ambientato in Italia. Vabbè, però una licenza poetica, dagliela ai signori di Lies of... Però c'è tutto cazzo, cioè... Ragazzi, allora... E non è perriabile questo gioco. Ma ammazzalo e basta! Aspetta, no, voglio... Devo imparare. Non ti impuntare. No, allora... Welcome back, fellow one dead. Cheat! Porco Jude! Ma vaffanculo, ammazzalo! Ma è imparabile! Ma perché c'è la mazza frusta della Madonna! Madonna, l'audio è il ritardo. È bello! Anche colpire... Ah, qua c'è se... Perfetto. Ci sicura? Anche colpire il nemico lo fa sbilanci... Madonna santa è l'agra, c'è... È una 3080, è comunque... Ma guarda, è texture. Signori di... Cos'è? Ma che è? Metal Gear. Che bello! Lui è bello. La forza di cambio. The force of change, è vero? Lui ce la fa a pararlo appena... Ma perché lui ha un attacco normale. Quello c'era un attacco che tipo... Ma questa musica, non c'è tanto caso. No, non è vero, dai. Non fare... Per me è fuori contesto. Non fare la critica o no. È fuori contesto. Sembra un po' che sta partendo un combattimento di The Witcher da un momento all'altro, ma... Vero, vero! Sei morto, sei morto? Morte. Morto. Ma scusa, perché questo è scritto in italiano? Ma quindi scusami, l'ha fatto l'italiano però in inglese? Ha fatto la traduzione? E di che stiamo a parlare allora? Sì. Cioè, noi in Italia ci lamentiamo del fatto che alcuni giochi non arrivano doppiati in italiano. Loro hanno fatto il contrario. L'hanno reso inglese per il mercato. Vabbè, in realtà ragazzi... Per tutto il mondo, ragazzi. Al di là del meme. Cioè, ci sta. Al di là del meme, ci sta perché alla fine è un discorso puramente... Puramente di mercato. No, perché se lo fai solo italiano, è una nicchia troppo. Non è solo in Italia. Non ha senso. Però il discorso è... Visto che è la demo, fai vedere che c'è l'italiano, cioè... Sì, potevano farli entrambi. Quello, entrambi le lingue potevano fare. Quello sì. T'ho perriato. Lui è figo. Lui è molto figo esteticamente. Lui è davvero figo. Noi facciamo schifo, ma lui è figo. Vabbè, noi siamo i poveracci. Welcome back. No. No. Ma schiva, non c'è il roll. Sì, sì, che c'è, ma non voglio perriare. È un gioco in cui non c'è il perri. Non ho mai gioco. Vabbè, senti, fanculo. L'ho capito, ma d'ammazzo. Stiamo qui due ore. Ma sì, ma che ce frega. Ma che ce importa. Bravissimo. Se lo starvino ci ha messo l'acqua. Guarda, stiamo in Italia, giustamente. Lui non era un manichino. Faux vanquished. Ma lui non era un manichino. No, lui non era un manichino, forse. Mask of change. Wait. Ti ha dato la spada e l'armatura? Mi ha dato la spada e l'armatura? Ma che cazzo stai dicendo? È l'aspetto. Aspetto. Ma quindi abbiamo... Ti ha dato l'arma, davvero? La great sword, che è la sua. Ah, ok. Swap equipped weapon, quindi questa. Bella, eh? E muscolo doubt. È tipo la clamor. Concettualmente molto figo. Fighissimo. Ma ti dà potere in più? No. Ti ha dato... No, credo di sì, in realtà. Eh? Press LT? Eh, RB. Aspetta, è la mossa che faceva lui. LT più RB? No. La fa uguale. È scomodissima in culo questa cosa. Ma perché ne hai tre, scusa? Perché hai tre... Eh, perché probabilmente avrai tre... Se ogni boss è un aspetto, probabilmente avrai la possibilità di swappare. Allora, aspetta, secondo me... Ogni aspetto poi avrà una sua particolarità. Secondo me sì. Per forza, perché se no non avrebbe senso. Vabbè, com'è Dark Souls? Che fa? Ti cura. Armonia SAP. Ti cura. Rolls up that allows the user to recover some hilt upon damaging the enemy for a brief duration. Ok, quindi... Ma perché parli così? For a brief duration. Perché non si può dire... Siamo internationals. Duelist weird. Che cazzo... Che cazzo è il duelist weird tu? Ma che cosa? Ah, ok, perfetto. Ah, carino. Se ti carichi le... Ah, vedi? Tu fai così e in basso a destra fai... E mosse ardore. Fai la mosse ardore. Eh, però dobbiamo prima... Mena... Ah, devi caricare. ...durissimo la gente, perché se no... L'ardore... Ar... Kamadoska. Ma c'abbiamo il perry? Sì, ma è sempre lentissimo in culo, quindi... C'è la... Puoi usare una? Con... Con la BB... C'è, che sto... Wow! Un po' penoso come attacco, sinceramente. Ma perché non l'hai lockato e l'hai missati? Uh, questo è figo. Questo è più bello, sinceramente. Molto più bello, molto più fresco. Po' estivo, anche. Ma che vuol dire? No, in realtà mi sto inventando un po' di cose per fare il sabbaku. Ma smettila, poverino. Guardate. Ma smetti! Gioca! Smettila! Non me ne vogliate fan di sabbaku. Io scherzo, lui riderebbe di questo scherzo. Sono sicuro, non è vero. Probabilmente mi denuncerebbe, ma... Non credo che ti denuncerebbe. Allora, nel mondo di Enotria ci sono quattro primali elementi. Quindi? Non mi dico. Ci ha nauseato. Ah, abbiamo i tasti sminchiati. No, vabbè. Carino, questo è carino. Open. Carino, ma è un dito in culo. Eh, vabbè. Piercing with mask, ok? Buff. Sage Maze. Oh, figo. Ma questo è molto più figo. Sembra un po' Pulcinella. Che lag! Madonna sarda. Vabbè, ha caricato. Come sarda? Beh, sì. Sardegna. Ci avranno una Madonna anche loro, credo. Falò. Falò, te lo butto lì. Questo è un falò. Corda risonante. Corda risonante. Tutto incentrato sull'opera. Ah, ok. Perché è noto la Last Song, quindi l'ultima suona. Ah, quindi non sui vini? No. Level Up. Ah, fortitude. Belle anime. Fortitude. Queste anime. Sì, sì. Praticamente noi le consumiamo. Etti di livello. Per livellare. Ok. Abbiamo un po' di forzitudine. Ah, c'è il fast travel. Perfetto. Vabbè, 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 come tutti i souls like. Qua c'è solo gente... Gente in cartacciata. Vedo la gente morta. Correre si fa così come Bloodborne, quindi se siete un minimo... Bello! Ah, ritiro tutto quello che ho detto finora. I campi dell'inizio. Le ombre, le cose, il piatto. Questo è figo. Il campo di girasoli, che poi non sono manco girasoli. Tipo margheritini. Margherita gigante girasoli. Sì, perché sono bianche. Marghe soli. Marghe soli, sì. Allora, il framerate ne sta risentendo, ma senza un motivo logico. È una demo. Però. Però, la grafica non è esagerata, però è bella da vedere. E fanno i contadini loro. Sì, se li fottiamo aranci probabilmente si incazzano. Per gli amici non del sud, se gli freghiamo le arance probabilmente si arrabbiano. Probabilmente si sparano. E tu? Da dove cazzo è uscito questo? Ognuno stava colpendo esattamente quando tu ti sei spostato. Quanto poetica questa... Ma tristissimo! Oh, salve signor contadino. Contadino non far sapere quanto è buono. Lui non gliene frega un cazzo, se ne va. E il formaggio con le mele. Con le mele. Arcamadosca. Oh, ho perriato chi? Non so chi. Lui, l'altro è perriato. Il piccoletto. Ho perriato l'altro. Come hai fatto a perriare un forcone? Ti ricordo che in Resident Evil 4 potevi perriare le asce tirate con un coltello. E le sedi circolari con un coltello. Ma io ne ho un uomo addestrato. Noi siamo un manino addestrato. Ah, ho capito. Qui c'è gente, ovviamente. Però guarda che lì che bello scorcio, guarda. Ah, artisticamente c'è. No, no, figo, figo. Come dicevo. Artisticamente lo sento il gioco. Per le questioni grafiche. E' carina alla fine. Non è esagerata la della stanza. No, vabbè, ma non deve essere... Salve, è bello. No, vedi giù. Lui voleva. Voleva buttarmi giù. Egniche. Madonna, questo... Egniche. Picchialo, picchialo. Cos'è colpito? Ah. È morto dopo, ma è morto. Sì, sì, è morto dopo, ma è morto. L'animazione che è... Guarda qua su scorcio. A parte l'acqua che è tipo anitra vc. Però guarda che bello. Vabbè, l'acqua è difficile da fare. Vabbè, ho capito. Ma almeno il colore, che non sia la riattiva. È la fogna. Senza fare i cretini. Artisticamente c'è. Sì, sì. Comunque i souls like... E cosa? Cadde? Ma? Ti ha dato un pugno. No, ma mi ha tirato qualcosa. No, no, ti ha dato un pugno. Ma sei sicura? A me mi pare che mi ha tirato qualcosa. Io non gli ho visto niente in mano. Vabbè, lo vedremo in video. E dicevo, artisticamente c'è. Di base non è brutto. No, è carino, è carino. È carino. E i souls like, in generale, non hanno mai avuto una grafica spaccamasciata. Funzionale, sì, questo è vero. Cioè, anche se tu vai a giocare Sekiro, questo può essere tranquillamente anche meglio di un Sekiro. Certo, non fa tanto l'ambientazione, ma non l'hai affinato. Esattamente, quello volevo dire. Niente, il Perry è ancora la cosa più difficile. Ma l'hai visto che quando ti colpisce il nero, tipo inchiostro, forse? Ma sto andando proprio avanti. E sgringhe. No, secondo me... Oddio, lo sai che non lo so? Perché il discorso è che noi siamo... Che non hanno sangue, capito? Non hanno sangue. Come si curava in suo gioco? Ah, ecco, ti ha lanciato qualcosa. Ah, e qui ci ha lanciato la... Sua madre. No, così piccolina è sua madre. Sì, sì, sì. Oh, che cazzo. Ma è un horror, questo gioco. Eh, ho capito, ma parla italiano. Parla italiano. Parla italiano. Oh, shit. L'ho perriato, non so come. Però è figo lui. Lui, lui, secondo me ti dà qualcosa? Sì, mi ha dato lo status di confuso. Se non la smetti di togliermi le cuffie, veramente ti licenzio. Abbiamo una cuffia in due e questa se la tira. Io non lo so, guarda. Investi e usiamo due cuffie. Allora, amici del canale Stay Nerd, popolo di Stay Nerd. Andateci risordi, perché abbiamo bisogno di due cuffie. O di uno split almeno. Sembra lo split, sdoppiatore, quello che è. Ah, qua c'abbiamo l'altro. Guarda, dai, no. Stilisticamente c'è. Dai, no, è figo, no, c'è, c'è. Da molto campagna, campagna italiana. Sì. Corda risonante. Sembra, te lo ricordi quell'anime? Fatto in Italia? Quale? Quello salto volante veloce con luce? No, vabbè, ma quella è una merda. Tra l'altro c'è non altro che è diventato un meme. No, il miscuglio fra gli italiani. Dove inneggiano a luce. Cioè, c'è un altro, non sto scherzando. Amici dell'internet lo sapranno. C'è un altro anime, la Madosca. Oh. Come gli ho fatto, scusami. Che cosa è successo? Non lo so, ma gliel'ho fatto. C'è un altro anime ambientato in Italia, dove il personaggio si chiama Luce. Eh? E' solo che i giapponesi, come ben sai, non ce la fanno a parlare l'altra lingua al di fuori del giapponese, senza un accento che non sia strano. Ma perché non hanno una fonetica? Ma è una fonetica, ovviamente. Delle L, esatto. Se non fosse che loro urlano luce, luce, ma al posto della L dicono D. Nooo. Sembra che dicono D. Quindi c'è Statizia vestita di nero, con una divisa nera militare, che urla quello, invece di luce. Luce con la D. Luce con la D, tre volte, è diventato, tre, quattro volte, è diventato un meme, questa cosa qua. E com'è il film della precessa Mononoke, con la traduzione italiana. Sì, esatto, fatto da cannarsi, sì, fatto da cannarsi. Perfetto. Io faccio la scena, perché giustamente i giapponesi... Ma quella ha la freccia? Ma che siamo pazzi? Aspetta che mi ammazza questo. Almeno non hai i sassi. No, perché non sono giovanotti. Infatti. Vabbè, puoi fare le armi. Abbiamo infuso l'arma con qua. Eh, sì. Ma allora! Amicchialo! Ma due ore va a attaccare! Ma che caratteristico, c'ho una spada in mano, mica una lavatrice. Ah, che figo, quando muoiono senti le mar... Tipo il suono delle marionette. Molto figo, ho fatto caso adesso. No, a me sai cosa mi è sembrato, quando lo scaccia i pensieri... Eh, quello al vento, sì, sì, sì. Sì, col vento. No, in realtà credo sia più generico un suono di marionette che... Sì, sì, perché... Uh! Come? Eh, volevo dire una cosa che poi non ho potuto... Che cosa hai detto? Vedi che è tipo nero il sangue? Quindi l'inchiostro. Sì, io credo sia... Credo perché sia inchiostro. Oppure l'olio per lubrificare le marionette. No, adesso stai andando veramente troppo deep. Scusa, sono marionette. Sono solo marionette. Ovviamente, ragazzi, la... La demo, aia, dura... Tipo, mi sembra 7-8 ore. Madonna che demo. È un gioco. Scusa, è una bella demo. Scusa, se la demo è 7-8 ore, il gioco conto è 65 ore. Un solo slack di base ha una durata... Sì, di parecchie ore. Molto ampia. Wait, rivelazione. Questa forma ci dà più 8 di fortitudine. Fortitudine. Meno 2 di attainment, che non so che cazzo voglia dire. Attentamento. Eh, vedi perché voglio tradotti in italiano, sti cazzo di giochi. Ma se sei garante, scusa, impara l'inglese, lo sanno tutti ormai nel 2024. Hai capito. Meno 2 cunning. Non cunna bene. Più 8 di attenuamento, che credo sia la riduzione del danno. C'è l'alberabilità? Sì, vabbè, bellissimo. Ok, abbiamo 24 di questi punti, poi uno si va... Allora... Ognuno poi si fa la sua... Completo, comunque. Ragazzi, io col Vesuvio lì, di sottofondo, diciamo, ci fermiamo qua. Ok, che è poco per esplorare tutto il gioco, ma si tratta di una demo. Io non vorrei nemmeno andare troppo avanti. Certo. In una demo. Magari ve la giocate voi per conto vostro. Sì, allora, a livello di stabilità... Non c'è. Ma anche Dark Souls 1 non c'era. Vabbè, ma stiamo parlando di Dark Souls 1, una From Software un po' più acerba, ci sta. Anche queste... Tra l'altro Dark Souls 1 era il primo esperimento di gioco su PC. Però anche loro sono all'inizio, ci può stare. Loro sono all'inizio, comunque ci può stare, assolutamente. Io non sto dicendo che il gioco è da punire, anzi, artisticamente c'è. Sì, anche a me. Lo stile grafico a me non dispiace. Anche a me. Il concetto di te che ti trasformi, se sei una marionetta che ti trasformi, prendendo le maschere, quindi tutto sto concetto legato all'opera, in sé, eccetera, eccetera, e ogni maschera poi ha effettivamente delle variabili nelle statistiche, a me piace. Anche a me. È un gioco che giocherei? Sì. Sì, ma in italiano. No, io me lo giocherei anche in inglese. No, in inglese no, perché se tu vai a vedere, lo sai perché non me lo giocherei in inglese? Innanzitutto perché è un gioco italiano, ed è legato all'opera italiana, ok? Quindi che tu me lo fai in inglese è un po' un cazzotto nell'occhio, diciamocelo molto chiaramente. Ti parlo da italiano, cioè io in questo momento stai intervenendo proprio l'italianismo nella mia testa. Brutto. Al di là di ciò abbiamo il Path of Innovators, quindi l'albero abilità, che è abbastanza tecnico. Non dico tecnicissimo, però appunto alcune cose possono esserlo. Anche se comunque vedo che sono molto semplici da capire. È tecnico, inerente comunque al gioco. Esatto. Quindi io vorrei vederlo in italiano. Non è un contro per me. Per me personalmente non è un contro. Però potrebbe essere uno di quegli aspetti che non me lo fanno giocare al day one. Ma devo aspettare di essere completamente nel mood per dire me lo gioco lo stesso a costo di stare lì a tradurmi le cose ogni volta. Ma io non sono d'accordo alla fine. Beh per me ragazzi, nonostante io conosca l'inglese, però comunque io lo voglio vedere in italiano. Cioè un gioco fatto in Italia da italiani, da uno studio italiano, ambientato in Italia presumibilmente, lo voglio vedere in italiano. Non me ne abbiate. Vabbè qualcuno ti farà una pagina. Probabilmente, ma in realtà io sto mettendo le mani avanti, probabilmente solo la demo in inglese. Eh esatto. Perché nelle impostazioni loro comunque ti danno la possibilità di andare qui e fare destra-sinistra. E ok che adesso non c'è niente, ma credo ci sarà. Sì anche secondo me. Da noi per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nei commenti, esatto, linea lo studio. Sabaku se guarderai questo video. Non lo farai mai. Perdona, non lo farai mai, lo so. Siamo poveri noi mortali. Però scusami se ho trattato male un Souls, ma io sono molto pratico. Io l'ho trattato bene, ricordo di me. Sono molto pratico, io sono un giocatore scemo, più che altro. Io gioco e guardo il gioco per quello che è, non per quello che... Cioè oddio, anche un po' per quello che potrebbe essere. Ah finisci! Ma qua c'è io, oh oh comunque. Arrivederci. Ciao.